Io praticamente volevo partire da dentro la porta per attaccarla in modo opposto, uscendo dalla porta verso il dischetto. Marilungo era uomo su di me, però mi marcava dal dischetto e non dal lato porta. Mi ha spinto contro il palo, siamo andati contro il palo, poi uscendo ci siamo un po' spintonati a vicenda, ma insomma niente di che, lui non era lì posizionato sulla zona, era uomo su di me, ci siamo un po' spintonati, la palla è passata. Penso che era una cosa a vicenda, non c'era un fallo ben preciso, però l'arbitro ha deciso così, insomma guardiamo avanti. Non diamo troppo peso a quell'episodio, anche perché poi la partita penso che sia stata bella e piacevole, insomma non guardiamo troppo a quello che poteva essere. Io bene, mi trovo molto bene, mi sono trovato molto bene anche con Francesco, Bombaggi, insomma io penso sempre un po' alla zona di riferimento che è quella di sinistra dove lavoriamo con terzino, mezzala ed esterno, quindi ci interscambiamo, c'è possibilità di muoverci, di creare superiorità e quindi dobbiamo essere bravi e insomma lo stiamo facendo. Secondo me nell'ultima partita qualche errorino tecnico di troppo l'abbiamo fatto, però sicuramente l'avversario era di valore, la pressione rispetto alle ultime partite sul portatore palla era diversa, ci può stare, c'è stato qualche errore nostro come qualche errore loro, però insomma la partita penso che sia stata positiva. Questo non lo so, ma dipende anche un po' da come si può mettere la partita, noi andiamo lì per fare il nostro calcio, siamo tutti giocatori molto offensivi, quindi è normale che quando non abbiamo la palla un po' di più soffriamo, ecco ci piacerebbe averla sempre in nostro possesso e gestire noi la partita, però è chiaro che contro le grandi squadre devi sapere anche soffrire, devi sapere anche essere posizionato bene, marcare bene, quindi insomma non lo so come imposteremo la partita, lo vedremo in settimana, però sicuramente andiamo lì con la convinzione di poter fare bene e di fare la nostra partita, poi al di là del risultato. Non è nemmeno una trasferta qualunque, quindi è chiaro che il nostro percorso di crescita in queste due partite che andremo ad affrontare lo valuteremo molto bene, insomma a che punto siamo, a che livello siamo, insomma sono molto curioso anche io di confrontarmi con queste squadre che sono di assoluto valore, con giocatori importantissimi, quindi vediamo, sono curioso, andremo lì con la voglia di far bene, quello sicuramente, quindi insomma vediamo come andrà la partita. Era un test importante e veritiero anche quello, nel senso che è una squadra costruita con giocatori molto molto forti, quindi è normale che esserci la giocata alla pari, aver avuto molte occasioni da gol, aver avuto la possibilità di vincerla, ma non con delle occasioni sporadiche, con un discreto gioco, ci dà la convinzione di poter far bene con tutti, quello sicuramente. E' chiaro che, come diciamo prima, il nostro trend fuori casa non è per niente positivo, quindi dobbiamo assolutamente cambiarlo e Bari sicuramente è un test importante e difficile e ce la metteremo tutta per fare un buon risultato.